Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono Chiara e lui è Cecio. Ma con chi stai parlando, Chiara? Con il nostro visitatore virtuale. Beh, evidentemente la quarantena fa male, meglio assecondarla. Gli diamo un nome? Seguici, portiamo a fare un giro. L'Università Yulman nasce nel 1968 dalla Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori su impulso del senatore Carlo Boide e del professore Silvio Baridon come istituto universitario di lingue moderne. Negli anni 70 si concentra sullo studio delle lingue, negli anni 80 e 90 si specializza anche in ambito comunicativo. Dagli anni 2000 a oggi diviene un'eccellenza anche in ambito del turismo e della valorizzazione dei beni culturali. Il campus si estende per oltre 65.000 metri quadri, di cui 20.000 di solo verde. Abbiamo a disposizione circa 80 spazi tra aule e laboratori con una capienza complessiva di circa 7.652 studenti. È composto da 5 edifici, il cui fiore all'occhiello è Yulm Open Space, la torre arancione per intenderci, ma anche dal magnifico giardino, dal Residence e dalla Cascina Moncucco, perché oltre che studiare in Yulm, puoi anche vivere qui. Yulm 1, cuore pulsante del nostro Ateneo. Troviamo la segreteria studenti, l'Infopoint, l'Aula Magna, oltre a tantissime aule, laboratori e biblioteche. Orientarsi in Yulm è molto semplice. Ti sveglio un trucchetto. Devi raggiungere l'Aula 136 per la lezione. Il primo numero indica l'edificio da raggiungere, il secondo il piano e il terzo il numero dell'Aula. Di conseguenza 136 sarà Yulm 1, terzo piano, aula numero 6. La Yulm da sempre coniuga il sapere e il saper fare. Difatti i nostri corsi di studio sono caratterizzati da moltissimi laboratori. Sono tantissimi anche i luoghi adibiti allo svolgimento di queste attività. I laboratori di lingua, i laboratori multimediali, come il teatro di posa e il laboratorio di radio. Il brain lab e infine il laboratorio di giornalismo. Altra peculiarità della nostra università sono gli incontri con i professionisti del settore. Eventi, convegni e masterclass che si svolgono quotidianamente qui in Ateneo. Solitamente si svolgono in Yulm 6 in auditorium o qui in sala dei 146. Questo alle mie spalle, invece, è il bellissimo auditorium. Tutti gli eventi importanti, come proclamazioni di laurea e inaugurazioni dell'anno accademico, si svolgono sempre qui. Come hai potuto vedere, questa è la Yulm. Ma ciò che la rende un'eccellenza sei tu. Grazie, grazie. Non dovevi, non dovevi. Non dicevo a te. Dicevo agli studenti di ieri, di oggi e di domani, come il nostro visitatore. Hai proprio ragione. Cosa aspetti? Inizia anche tu a costruire il tuo futuro qui in Yulm. Se avessi bisogno di ulteriori informazioni, puoi scriverci all'indirizzo infopoint.chiocciolaiulm.it Buongiorno, mi chiamo Gianni Canove e sono il rettore dell'Università Yulm. Ho il piacere di dare a tutti voi il mio personale benvenuto a questo Open Day a porte chiuse, il secondo che siamo costretti a organizzare così per il perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia e del coronavirus. Mi rendo conto che un Open Day a porte chiuse è una sorta di ossimoro, è una contraddizione in termini. L'Open Day in genere è l'occasione in cui l'Università mostra se stessa e presenta non solo i propri progetti, i propri programmi, la propria offerta formativa, ma anche il campus, gli ambienti, i luoghi, gli spazi in cui le ragazze, i ragazzi che sceglieranno Yulm verranno a studiare e a vivere alcuni degli anni più belli della loro vita. L'emergenza sanitaria ci obbliga a mostrarvi anche il campus in remoto e spero che le immagini siano riuscite a darvi un'idea di come a tutti noi stia a cuore la qualità degli spazi e degli ambienti e la cura con cui cerchiamo di fare di Yulm un laboratorio a cielo aperto di creatività e di progettualità. Fra poco i miei colleghi, i presidi, i coordinatori dei vari corsi di studio vi presenteranno in dettaglio le nostre proposte formative per il prossimo anno accademico. Per parte mia vi voglio trasmettere un solo messaggio che è al contempo di rassicurazione e di speranza. Rassicurazione perché stiamo predisponendo un piano che garantirà di iniziare l'anno accademico, il prossimo settembre, in condizioni di sicurezza e di regolarità. Quando anche l'emergenza, cosa che non auspichiamo, ma quando anche l'emergenza dovesse perdurare, noi trasmetteremo le nostre lezioni anche in streaming non siamo e non diventeremo mai un'università telematica, io sono convinto della centralità dell'aula nei percorsi formativi, università per noi è socialità, condivisione, compresenza, lavoro di squadra, esperienza di vita, ma a settembre consentiremo a chi volesse di seguire le lezioni del primo semestre in remoto per maggior sicurezza anche psicologica. Il messaggio di speranza, il messaggio di speranza non dobbiamo lasciarci abbattere dal coronavirus, al contrario dobbiamo trasformare la crisi in un'opportunità, perché quando tutto questo sarà finito, questo Paese avrà bisogno più che mai di una nuova classe dirigente capace di guidare tutti noi verso un futuro un po' migliore del passato che abbiamo alle spalle. La nostra ambizione è quella di contribuire a formare questa nuova classe dirigente. non è solo un'ambizione, è anche una promessa. Buona pendaglia a tutti. Eccoci, siamo tornati qua, siamo tornati sia fisicamente che virtualmente dentro l'auditorium. Io ci tenevo, ma anche i ragazzi che vedete alla mia sinistra, ci tenevano ad essere qua per dare un segnale del fatto che l'università è momentaneamente vuota, non ci sono gli studenti, ma noi ci siamo, gli uffici ci sono, stanno tutti lavorando, risponderanno alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, insomma, qualora desideriate avere informazioni. Per entrare nello specifico di questo corso di laurea magistrale vorrei dire due cose. Allora, intanto chiedo a Lorenzo di mandare la prima slide. Ecco, questo corso di laurea, e mi riaggancio a una cosa che avete appena sentito dalla voce del nostro Rettore Gianni Canova, è un corso di laurea che ha sempre avuto come punto di forza la sua capacità di mescolare da un lato un'offerta formativa accademica, classica, fatta di insegnamenti teorico-critici, che sono quelli che declinano il cosiddetto sapere attraverso la didattica frontale, e invece una didattica innovativa che passa attraverso i laboratori, quindi una didattica pratica, quella che declina il saper fare, e che trova uno sbocco privilegiato nelle esercitazioni. Ecco, ci tenevo a iniziare dicendo questo perché il Rettore ha appena detto che noi non siamo e non saremo mai un'università telematica, siamo un'università dove l'aula è al centro. In questo corso di laurea, più che non in molti altri della nostra offerta formativa, ci sono molti laboratori, quindi l'aula resterà sempre al centro della nostra offerta formativa, che adesso vedrete scorrere velocemente davanti ai vostri occhi. Ci tengo solo a dire, prima di entrare un po' più nel dettaglio, che l'emergenza del coronavirus ci ha costretto a mandare in via telematica alcuni insegnamenti, per lo più gli insegnamenti teorici. Nella fase acuta della pandemia abbiamo fatto la stessa cosa anche con i laboratori, con esercitazioni tenute a distanza. Per il prossimo anno accademico, come diceva il Rettore, cercheremo di mandare, se ci fosse ancora l'epidemia, in telematica gli insegnamenti teorici, quindi quelli che possono essere seguiti tranquillamente da casa, e invece di posticipare il più possibile al secondo semestre gli insegnamenti pratici, quindi i laboratori, in modo da poterli tenere nella consueta diciamo modalità di questo corso di laurea che ne fa in qualche modo l'identità. Ecco, per spiegare sinteticamente l'identità del corso di laurea, io mi affido, lo faccio da diversi anni, a un video realizzato dai nostri stessi studenti, quindi dagli studenti del corso di laurea magistrale in televisione, cinema e new media, esattamente come nel video di introduzione del tour al campus, che è fatto pure dai nostri studenti, il ragazzo che avete visto fare battute si chiama Vincenzo, ed è uno studente in corso proprio di questo corso di laurea. Chiedo a Lorenzo di mandare il video con un po' il racconto della vita degli studenti di televisione, cinema e new media, e poi lo commentiamo insieme. La cosa più bella del mio corso di laurea è sicuramente il lato pratico. Una cosa che mi sta stupendo è che ci sporchiamo le mani. Mi piace tantissimo la pratica. Il fatto di potersi mettere in gioco, di poter lavorare e creare qualcosa di concreto e che possa aiutarmi a capire quali sono le mie reali capacità all'interno di questo ambiente. Ora ci troviamo nell'aula di montaggio. Ci sono sempre delle lezioni teoriche che affiancano delle lezioni pratiche in cui facciamo l'ABC del montaggio, quindi anche a fare delle piccole animazioni o comunque ad imparare ad usare i titoli, i sottotitoli. Quindi per esempio se noi abbiamo dei lavori nostri che vogliamo anche modificare con After Effects possiamo prenotare l'aula e direttamente lavorare per conto nostro. Questo è il teatro di posa. E qui si svolge il laboratorio di luminotecnica. I ragazzi possono vedere tutto ciò che riguarda il mondo delle luci nel campo del cinema. Il professor Schiavan vuole riproporre fotograficamente una scena tratta da qualsiasi film. Ed è stato molto divertente giocare noi con le luci, giocare noi con gli effetti. Sempre nel teatro di posa abbiamo fatto anche il laboratorio di recitazione e di direzione degli attori. In cui prendiamo una scena e la contestualizziamo. Usavamo quello spazio che è più ampio rispetto agli altri per avere modo di lavorare meglio sui corpi, sulla gestualità che ovviamente sono alla base del lavoro attoriale. All'interno del teatro di posa abbiamo fatto anche il laboratorio di regia. E quindi siamo partiti proprio dalla bici della regia per poi evolverci. Oltre ad utilizzarlo come spazio dove ricostruire un set, ognuno di noi doveva realizzare dei corti. Ed è stato bello perché sembrava quasi una sorta di cinema dove noi potevamo mostrare ciò che avevamo fatto. All'interno del laboratorio di regia televisiva abbiamo realizzato un format che riguardava le nuove generazioni, quindi i giovani. Abbiamo girato la città intervistando le persone sul tema della nostra generazione. Molto importante perché abbiamo visto anche come cercare di portare le persone dentro la macchina audiovisiva. L'università ci mette a contatto con degli enti esterni per fare pratica e in questo modo è nata la collaborazione con la Scala. La Scala offre la possibilità di riprendere sia le prove generali di un'opera, sia di fare delle interviste e quindi poi di montare queste clip e inserirle nel canale ufficiale della Scala. Oltre alla Scala abbiamo fatto altre esperienze come il Bobbio Film Festival. E qui il nostro incarico era quello di fare delle riprese e poi di montarle per caricare il video finale nel canale YouTube del Festival. E abbiamo avuto modo di conoscere personaggi importanti del panorama italiano. Abbiamo potuto veramente fare qualcosa di nostro. E comunque è stata un'esperienza molto forte, molto intensa, che abbiamo vissuto veramente, potrei dire, a 360 gradi. Questo corso mi sta dando molto. Il fatto di dover girare un video per me prima era una cosa impensabile. Mi trovo bene, ho avuto modo di approfondire le materie che più mi interessavano. Voglio imparare tutto ciò che sta dietro la telecamera. Mi piace l'attenzione dedicata allo studente e questo mi sembra molto importante, insomma non sentirsi solo un numero, ma delle persone, degli studenti con l'S maiuscola. Ecco, siamo ritornati nell'auditorium. Se fossimo durante un Open Day normale, approfitterei per ringraziare gli studenti che hanno realizzato questo video. Approfitto per ringraziare invece tutti i tecnici che sono qua e per ringraziare anche Lorenzo Mosna, che è un nostro ex studente di questo corso di laurea, che sta facendo la regia e che quindi rende possibile questo evento. Allora, proviamo a entrare un po' nel merito della didattica di questo corso di laurea, che è stata ampiamente raccontata dai ragazzi nel video, dove si trasmette anche una cosa di cui parlava il rettore prima, cioè il senso di comunità, il senso di collaborazione. In questo corso di laurea si ideano progetti, si realizzano progetti e si fanno in squadra, si fanno attraverso delle squadre che sono come delle geometrie variabili all'interno del biennio del corso di laurea. Allora, questo corso di laurea, direi di far partire la seconda slide, è, come immagino sappiate, come avrete avuto sicuramente la possibilità di vedere dal sito internet, che vi invito a guardare nel dettaglio, perché questa sarà solo una presentazione sintetica. Questo corso di laurea si spalma su un biennio in cui, dopo un primo anno comune, dove l'idea è quella di formare alla ideazione e alla realizzazione di racconti audiovisivi, dando gli strumenti di base, sostanzialmente, cioè l'ABC della regia, dell'illuminotecnica, della ripresa sonora e anche della riflessione, diciamo, sul rapporto tra visivo, sonoro e immaginari del visivo e del sonoro, cioè dell'audiovisivo. A questo primo anno generalista segue un secondo anno, diciamo, di specializzazione. Il secondo anno è composto di tre indirizzi. Un indirizzo di cinema e nuove tecnologie, un indirizzo di televisione e cross media e un indirizzo di new media, musica e racconti digitali. Il senso è che l'intero biennio è centrato sulla ideazione, lo ripeto, e sulla realizzazione di racconti audiovisivi che al secondo anno vengono declinati per il medium di riferimento, quindi il cinema nel primo indirizzo, la televisione nel secondo e musica e new media nel terzo indirizzo. Quindi la preparazione è una preparazione trasversale che si va a precisare al secondo anno del corso di laurea. Andiamo avanti, con le slide, ancora. Ecco, qui vedete nella fattispecie i tre indirizzi specificati nel dettaglio. Io vi invito, adesso farò una carrellata velocissima sui contenuti didattici del primo e del secondo anno nei tre indirizzi. vi invito, come dicevo prima, a guardare bene il portale della Yulm dove trovate non solo il piano di studi, attenzione, ma se andate nelle risorse per gli studenti iscritti trovate anche i corsi, i diversi insegnamenti dei diversi corsi di laurea che sono cliccabili, quindi sono dei link sostanzialmente che rimandano ai programmi dei corsi. Quindi, lo dico sempre, a quelli che sono presenti qua, di solito ve lo dico attraverso la rete, a voi che siete collegati con noi oggi, guardate i programmi degli insegnamenti perché quello è l'unico modo per sapere esattamente che cosa state andando a fare o perlomeno per che cosa state andando a fare, domanda, diciamo, per eventualmente entrare attraverso un procedimento di ammissione obbligatorio. Allora, andiamo a vedere la slide successiva che è quella che ci racconta il primo anno dove si insegnano, come vedete dalla slide, le tecniche di base della regia, della direzione della fotografia, del montaggio digitale e della ripresa sonora, ovvero l'ABC di come si costruisce tecnicamente un racconto audiovisivo. Accanto a questa preparazione pratica c'è, come vi dicevo all'inizio, una preparazione più teorico-accademica, diciamo, che vi dà gli strumenti per riflettere sulla sfera del visivo, sul rapporto tra il visivo e il sonoro, che sono le due componenti appunto del racconto audiovisivo, sulle tendenze della videoarte e sugli immaginari in cui si producono racconti audiovisivi nel presente, che sono gli immaginari dell'era digitale. Andiamo velocemente al secondo anno, vediamo il primo indirizzo, che è quello di Cinema e Nuove Tecnologie, che è un indirizzo dove si approfondiscono, ovviamente, le tecniche del primo anno virate alla regia cinematografica e anche gli elementi, gli strumenti di riflessione teorica e critica sul cinema. Accanto a questi approfondimenti, che quindi proseguono la didattica del primo anno, si aggiungono insegnamenti dove si vanno a vedere le tecniche del cinema digitale e dell'animazione, gli elementi strategici dell'economia del cinema, della sua diffusione e della sua conservazione nei musei, nelle rassegne, nei festival, eccetera. Approfitto per dire che questo dato di elementi strategici di economia del, in questo caso cinema, lo troverete simmetrico, diciamo perfettamente simmetrico, in tutti e tre gli indirizzi, dove c'è sempre un comparto didattico dedicato al mercato di riferimento dell'audiovisivo. Quindi cinema, televisione e new media. Andiamo alla slide successiva, che è quella che approfondisce l'indirizzo del secondo anno in televisione e cross media, dove come prosecuzione rispetto alla didattica del primo anno si approfondiscono le tecniche della regia televisiva e la riflessione teorica e critica sui prodotti specializzati per la televisione, per l'intrattenimento televisivo. Vengono accanto a questi approfondimenti introdotti elementi nuovi, che sono quelli utili alla progettazione e alla realizzazione di prodotti seriali, che sono uno dei comparti diciamo più vivi, più vivaci del panorama televisivo. Le tecniche dello streaming, gli elementi strategici del marketing televisivo, come vi dicevo prima. Anche in questo caso c'è un'attenzione al mercato di riferimento, dove si andranno a collocare i prodotti che i ragazzi che studiano qua dentro vanno a produrre. Andiamo alla terza slide, e ultima, che illustra invece l'indirizzo di New Media, Musica e Racconti Digitali, dove, sempre in continuità con il primo anno, si approfondiscono le tecniche della regia per i formati brevi, quindi spot pubblicitari, piuttosto che teaser, trailer, eccetera, della messa in video della musica e della realizzazione di installazioni video artistiche, in continuità col primo anno. Mentre in discontinuità, quindi con una sorta di novità, di orizzonti di novità rispetto al primo anno, si introducono elementi utili alla progettazione di strutture narrative per i videogame, all'ideazione strategica di progetti o prodotti audiovisivi per i social media, e anche alla misurazione degli stessi progetti e prodotti sulla base degli output, ovviamente che questi progetti e prodotti hanno una volta rilasciati. Andrei velocemente alla slide successiva dove ci sono anche le attività formative a scelta che sono una sorta di complemento di quello che vi ho appena raccontato che permettono allo studente di personalizzare diciamo e di approfondire laddove lo ritenga utile o lo ritenga in qualche modo auspicabile alcuni aspetti di questo orizzonte mediale che ovviamente è molto variegato e molto sfaccettato. Non ve li sto a raccontare nel dettaglio potete andare a vedere ripeto il portale della Yulm con i programmi degli insegnamenti. Approfitto anche per dirvi un'altra cosa e cioè che online c'è la presentazione del corso di laurea analitica quella che abbiamo fatto nell'ultimo Open Day che dura un'ora accompagnata dalle domande dei ragazzi presenti a quella presentazione. Quindi oggi abbiamo deciso di darvi una sorta di presentazione sintetica per non tenervi incollati agli schermi troppo a lungo sapendo che ci sono queste presentazioni alle quali potete fare riferimento oltre che come sentirete fra poco anche all'info point dell'orientamento Yulma alla segreteria studenti che contattati direttamente al telefono contattati via mail eccetera vi risponderanno a tutte le vostre domande. Andiamo ancora alla slide successiva Lorenzo che è quella che ci ricorda una cosa molto importante cioè che questo corso di laurea ha stabilito un accordo di dual degree cioè di doppio titolo di laurea con un corso di laurea analogo negli Stati Uniti che è rilasciato dalla New York Film Academy nella sede di Los Angeles quindi a due passi da Hollywood che è un luogo come dire topico per la produzione dell'audiovisivo globale come tutti sappiamo questo vuol dire che gli studenti di questo corso di laurea possono frequentare il secondo anno a Los Angeles e una volta che tornano indietro si laureeranno qua ovviamente discuteranno la tesi con noi e avranno in uscita un titolo di laurea doppio ovvero un titolo di laurea che vale in Italia e dunque anche nell'Unione Europea e un titolo di laurea anche americano ci sono per agevolare il transito verso gli Stati Uniti ovviamente borse di studio di diverso tipo per il cui regolamento per la cui conformazione vi invito di nuovo a guardare il sito Yulm e anche a contattare gli uffici competenti in questo caso quelli che riguardano la mobilità internazionale andiamo avanti ecco questa slide di solito è molto attesa negli open day perché è quella che fa la fotografia come dire di quello che accade una volta che gli studenti escono dal corso di laurea ovvero la fotografia della cosiddetta condizione occupazionale i dati che state per vedere che stiamo per vedere velocemente sono dati che non sono elaborati da noi ma sono dati elaborati da un organo terzo diciamo che è Alma Laurea che è un consorzio che unisce tutti gli atenei italiani che intervista direttamente i laureati a un anno a tre anni a cinque anni dalla laurea chiedendogli appunto facendogli domande mirate sulla loro condizione occupazionale anche su altri aspetti di gradimento rispetto ai corsi di laurea quindi adesso vediamo velocissimamente cosa accade a un anno a tre anni a cinque anni dalla laurea ai nostri studenti per vedere appunto qual è quale e quanto è il rapporto tra questo corso di laurea e il mondo del lavoro di riferimento chiedo a Lorenzo di mandare ecco di scorrere un pochino giù io in realtà da questa distanza vedo piuttosto poco un pochino più giù mi leggete il dato no un po' più su il dato della condizione occupazionale il tasso di occupazione riuscite a vederlo dal monitor allora un pochino più scorriamo di poco più giù Lorenzo ecco dovrebbe essere il numeretto in no sopra la banda azzurrina ecco quello lì me lo dice Federico che lo no allora facciamo una cosa mi sposto un istante io mi seguite con la camera facciamo un po' di diretta improvvisata dai allora come vedete perché i monitor sono lontani e i numeri non sono visibili fin qua il tasso di occupazione a un anno dalla laurea è del 73% lo vedete diciamo sopra la banda verdina il tasso di occupazione è del 73% che vuol dire che il 73% dei nostri studenti a un anno dalla laurea sono occupati adesso vediamo cosa succede a tre anni dalla laurea perché c'è una escalation molto interessante io intanto mi sposto un istante poi torno ecco a tre anni dalla laurea vedete sempre nello stesso slot di informazioni che il 90% degli studenti sono occupati adesso vediamo cosa succede a cinque anni e poi facciamo un commento complessivo l'ultimo dato scusate questa avanti e indietro ma era l'unico modo per leggere i dati l'ultimo dato è che a cinque anni dalla laurea sono occupati il 94,9% degli studenti quindi il 95% quindi questo vuol dire che nell'arco di cinque anni la quasi totalità degli studenti sono occupati nel settore di riferimento è un dato molto interessante che si commenta abbastanza da solo che vi invito se volete ad andare a guardare direttamente comparandolo con i dati di occupazione di altri corsi di laurea analoghi colgo l'occasione per dire che il punto di forza di questo corso di laurea che dicevo all'inizio cioè la sua capacità di mescolare programmaticamente didattica accademica quindi teorico-critica e didattica laboratoriale è un punto di forza che lo rende lo dico davvero senza tema di essere smentito unico nel panorama nazionale cioè tutti i corsi di laurea nazionali nel settore ministeriale di riferimento di questo corso di laurea sono corsi con impronta spiccatamente accademica questo è l'unico che pur essendo un corso di laurea magistrale quindi non un master non un'accademia eccetera però da una formazione pratica ed è probabilmente leggendo diciamo tra le righe di quegli schemi che avete visto prima la ragione per la quale i tassi di occupazione sono così alti e così sensibilmente più alti di quelli in uscita dai corsi di laurea analoghi delle altre università ripeto potete andare autonomamente da soli nel sito di Alma Laurea a controllare i dati che vi abbiamo appena dato e a confrontarli con quelli degli altri Atenei andiamo avanti con le slide una cosa importantissima che è obbligatoria in tutti i corsi di laurea magistrale per laurearsi occorre acquisire un certo numero di crediti formativi attraverso uno stage o un workshop quindi un'attività lavorativa esterna coordinata o esternamente da un'azienda è il caso dello stage oppure coordinata da un docente interno all'università ed è il caso del workshop in ogni caso dell'attività è esterna o quantomeno si interfaccia con l'esterno vedete in questa slide che i partner storici dal punto di vista degli stage degli workshop di questo corso di laurea li avete sentiti anche dai ragazzi nel video iniziale sono Mediaset Sky Magnolia il teatro alla scala la triennale Vodafone VR Social eccetera eccetera potremmo elencarne altri ma naturalmente li lasciamo insomma un po' sullo sfondo anche questi li trovate indicati nel sito dello Yulm andiamo ancora avanti passiamo alla slide successiva ecco prima di chiudere mi piacerebbe farvi vedere di chiudere e di lasciare spazio ovviamente alle vostre domande mi piacerebbe farvi vedere un altro video allora ce ne sono tre in questa slide in realtà ne scelgo uno perché non vorrei dilungarmi troppo però vi racconto anche gli altri due allora il primo che vedete in alto a sinistra è quello dell'Elisir d'Amore cioè un video che voi trovate nel portale del teatro alla scala questo per dirvi che come vi hanno già anticipato i ragazzi nel video iniziale i nostri studenti praticamente tutti attraverso un sistema di turni che viene gestito appunto da Lorenzo Mosna vanno in truppa alla scala a filmare le opere che sono in cartellone realizzando dei trailer che sono i trailer ufficiali che voi trovate nel portale della scala quindi la scala sostanzialmente ha demandato al nostro corso di laurea la realizzazione agli studenti del nostro corso di laurea la realizzazione dei loro trailer quindi la comunicazione audiovisiva ufficiale dei loro prodotti naturalmente la scala in questi mesi lo sapete come tutti i teatri ahimè è chiusa ma insomma hanno già è l'unica fondazione lirica l'unico teatro che ha già annunciato la sua riapertura a settembre quindi siamo tutti molto felici che quando torneremo noi qua ci saranno anche loro là invece in basso a sinistra vedete un altro video che si chiama Dreaming Sky Journey ne vediamo un pezzettino facciamo così questo video è un video realizzato da uno studente di qualche anno fa che si chiama Jacopo Cairati realizzato come video di fine corso per il corso in particolare che tengo io che è quello di musica e immagine quindi è un video realizzato alla fine anzi nel secondo semestre del primo anno quindi vuol dire a metà del corso di laurea quindi con gli strumenti che si possono avere a metà di un corso di laurea ne vediamo un pezzettino per chi vi dà questo video un assaggio di cosa i ragazzi sono in grado di fare naturalmente poi dipende anche dalla loro creatività e dal loro talento ma insomma cosa sono in grado di fare una volta che sono in corsa dentro il corso di laurea prego Lorenzo e dal loro talento e dal loro talento ecco ne abbiamo visto un assaggio il video chiaramente è più lungo solo per farvi vedere che insomma al di là della spericolatezza del regista però insomma di tecnica ce n'è tanta la quale è usata anche piuttosto bene ultimo video poi lascio spazio alle vostre domande è quello invece realizzato da Francesca Tadini torniamo alla slide con i video che si chiama Ti porterà da me realizzato per sempre alla fine del primo anno quindi con delle cognizioni ancora intermedie rispetto a quelle finali del corso di laurea realizzato per un concorso che viene indetto tutti gli anni da Solombarda che si chiama Regista d'Impresa dove i ragazzi vengono messi in comunicazione con delle imprese con l'idea che le devono comunicare cioè che devono comunicare il comparto di cui quelle imprese fanno parte questa in particolare era un'impresa che si occupava di plastica di produzione di maniglie di plastica che è un oggetto che non suscita in nessuno di noi e neanche immagino in nessuno di voi una particolare fantasia guardate che cosa è riuscita a fare Francesca su una maniglia grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per essere qui. Darei subito la parola alla chat di YouTube. In particolare, Martina chiede, vista l'emergenza in corso, come funzionerà il test di ammissione di giugno? Valiettino vuole rispondere a lei? Buongiorno. Siccome si tratta di domande aperte, sono state fatte delle domande orali alla stessa maniera del test scritto. Quindi si tratterà sostanzialmente di un colloquio orale. Fermo restando... Sì, aggiungo solo un dettaglio che in realtà c'era già tutto in quello che diceva Valentina. originalmente il test era scritto, era composto di tre domande a risposta aperta, una sul mondo della tv, una sul mondo del cinema, una sul mondo dei new media. Per ovvie ragioni di emergenza abbiamo fatto la stessa cosa nell'orale attraverso le piattaforme digitali. Quindi di fatto il test è rimasto identico, solo che invece che scrivere si è trattato di parlare e forse curiosamente facendo di necessità virtù abbiamo scoperto che in questo modo la modalità è anche un po' più umana. Ci sono altre domande? Sì, c'è un'altra domanda da Francesco che chiede quanto dovrebbe durare lo stage previsto nel piano di studi e poi dice grazie e complimenti per l'organizzazione impeccabile. Beh, insomma, ci fa piacere, vedo il personale che gioisce in sala, voi non lo vedete, ci fa piacere, grandi applausi, ci fa piacere, grazie insomma per questo feedback, noi abbiamo fatto il nostro meglio. Dunque, lo stage può avere durate variabili, di fatto, leggo tra le righe di questa domanda, i ragazzi per acquisire i tre crediti che sono necessari per laurearsi devono avere lavorato o in stage o in workshop almeno 75 ore, gli stage di solito sono stage di almeno tre mesi, quindi diciamo dipende sempre dalla tipologia dello stage, dall'impegno orario, eccetera, però la soglia di obbligatorietà riguarda le 75 ore. Ci sono altre domande? Sì, riporto invece una domanda di Stefania che potrebbe essere interessante anche per altri studenti. L'importanza slash impatto della lingua inglese nel corso? Allora, ci sono un paio di insegnamenti opzionali, questo è un dato che vi dico, visto che nella presentazione veloce non era apparso più di tanto, ci sono due insegnamenti opzionali che sono tenuti solo in lingua inglese, ovviamente sapete tutti, senza che ve lo dica io, che nel mondo dell'audiovisivo, del cinema e della televisione, soprattutto dei new media, ci si interfaccia quotidianamente con realtà che sono internazionali, quindi è chiaro che noi non mettiamo, diciamo, dentro l'impianto obbligatorio di questo corso di laurea degli insegnamenti di lingua inglese o in lingua inglese, perlomeno non per ora, però una conoscenza dalle lingue inglese viene data come prerequisito, attenzione perché nel test di ammissione la vostra conoscenza dalle lingue inglese viene verificata, per cui questo ci dice che voi l'inglese lo dovete conoscere, a un livello sostanzialmente B2, tanto per darvi il dato tecnico, dovreste aver acquisito almeno 12 crediti di lingua inglese per essere ammessi al test oppure avere una certificazione linguistica che equivalga a un B2, diversamente se non l'avete nel test di ammissione c'è una prova che certifica il vostro livello di conoscenza di lingua inglese, però per rispondere in maniera più ampia l'inglese è importante, è molto importante. Alessia da Facebook ci chiede, per frequentare bisogna aver seguito una triennale particolare? Allora, per rispondere a questa domanda rimando al regolamento di ammissione, che vi prego di guardare bene nel dettaglio che è chiaramente pubblicato in rete, dove c'è l'elenco dei corsi di laurea triennali che danno accesso diretto alla prova di ammissione, oppure c'è l'elenco dei settori scientifico disciplinari in cui occorre aver acquisito un certo numero di crediti formativi per ugualmente avere accesso al test di ammissione. C'è un codicillo che dice che per tutti gli studenti provenienti da corsi AFAM, cioè accademie di spettacolo, arte, musica, eccetera, si valuta caso per caso a seconda del curriculum precedente. Chi non viene da uno di quei corsi di laurea triennale, oppure che non ha acquisito quei crediti formativi indicati, non può iscriversi al test di ammissione. Quindi c'è un bacino che non è, diciamo, strettissimo ma non è neanche infinito. Ok, magari colgo l'occasione per dire ai ragazzi che ci stanno facendo delle domande riferite alle borse di studio e agevolazioni, di scrivere una mail all'ufficio competente che è diritto allo studio chiocciolaiulmo.it, così i colleghi potranno dare tutte le risposte alle vostre domande. E inoltre per tutte le domande che magari non trovano risposta di scrivere a infopointchiocciolaiulmo.it. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, quindi faccio un appello a voi che ci seguite, se avete domande non esitate a farle. Sì, interpreto un pochettino la domanda di Stefania, scusate, di Laura, che ci chiede se la struttura fornisce molte delle attrezzature necessarie. Immagino una preoccupazione da studente che magari non riesce ad acquistare tutte le strutture e gli strumenti, tra cui camere, cavalletti e quant'altro. Quindi voleva sapere se l'università mette a disposizione queste attrezzature. Allora, per le attività laboratoriali tutte le attrezzature sono fornite dall'università, una parte, la gran parte, sono di proprietà dell'università. Per alcune attrezzature su cui sono necessari degli aggiornamenti periodici frequenti, l'università noleggia le attrezzature da dei service esterni. Per i lavori, diciamo, per le esercitazioni, cioè i cosiddetti lavori a casa, chiamiamoli così, che poi di fatto vengono realizzati comunque qua, le stesse attrezzature e gli spazi dei laboratori, che sono gli spazi che compongono il laboratorio multimediale, che è l'insieme di questi spazi, possono essere tutti prenotati e noleggiati. È chiaro che, non so come dire, noi non diciamo che è obbligatorio che lo studente che si iscrive a un corso di laurea in televisione, cinema e in media, possieda una videocamera. Non lo diamo assolutamente per scontato, ma sappiamo per esperienza che se magari nel corso del tempo incomincia a dotarsi anche per i fatti propri di attrezzature sue e a esercitarsi liberamente, diciamo, a casa, insomma, quando ritiene, durante le vacanze, eccetera, eccetera, è un valore aggiunto. Stessa cosa valga per il possesso di un PC. Ci sono aule informatiche in università, c'è una biblioteca dove ci sono postazioni PC, quindi in teoria si può fare tutto senza possederne uno. Nella pratica, se uno deve montare, faccio un esempio molto pratico, che Federico che ha frequentato questo corso di laurea vi può in qualche modo confermare, cioè se uno deve montare un filmato, ipotizziamo, per un'esercitazione, per un esame di un corso del corso di laurea, è chiaro che avere a casa un portatile con dentro i software di montaggio magari gli facilita il lavoro. Detto questo, nulla di tutto ciò è dato per scontato. C'è un'altra domanda da Facebook di Deborah che ci chiede, per chi non ha una certificazione B2, come viene valutata la conoscenza della lingua inglese nel test? Allora, lascio rispondere Federica, perdona Valentina, scusate. Sì, allora, come diceva il professore prima, il requisito è o possedere 12 CFU nel settore scientifico disciplinare, l'in 12, quindi lingua inglese, oppure avere una certificazione linguistica. Chi non possiede questi requisiti avrà una domanda aggiuntiva nel test di ammissione in lingua inglese. In particolare, per la sessione di aprile, chi non possedeva questi requisiti ha avuto la possibilità di svolgere una prova di accertamento linguistico qualche giorno prima della data ufficiale del test, così si è verificato direttamente il livello della lingua inglese. Chi ha ottenuto il livello B2 non ha dovuto sostenere poi la prova di inglese nella prova effettiva di ammissione. A differenza di quelli che invece non hanno passato, hanno risposto alla domanda aggiuntiva in inglese. Sì, aggiungo solo che la prova di accertamento consiste, come tutte le prove di accertamento di lingua, in una parte scritta e in una parte di riconoscimento all'ascolto. Quindi sono sostanzialmente due prove che compongono una prova in cui si devono completare dei testi e dall'altra parte dare prova di saper riconoscere all'ascolto degli altri testi. Sì, credo che abbiamo ancora tempo per qualche altra domanda. Una domanda direi semplice ma comunque interessante per molti. Com'è possibile prepararsi al test? Ecco, nel regolamento di ammissione, grazie per questa domanda che in realtà mi dà la possibilità di chiarire un aspetto, nel regolamento di ammissione sono indicati tre testi, che sono testi generalisti, sul cinema uno, sulla televisione un altro e sui new media. Non sono testi obbligatori, lo diciamo sempre fino allo sfinimento. Sono testi sostanzialmente indicati come testi dove gli studenti si possono andare o a ripassare nozioni che hanno appreso nelle lauree triennali oppure a studiare cose che magari non hanno studiato se vengono da altri corsi di laurea triennale. Detto questo, ci sono molti altri testi analoghi a quelli che possono essere consultati per avere le informazioni di base che sono i prerequisiti per l'ingresso al corso di laurea. Quindi sostanzialmente chi viene da corsi di laurea triennali di comunicazione oppure Dams, eccetera, può anche di fatto solo ripassare quello che conosce già nei tre settori. Chi invece viene da altri corsi di laurea è bene che si dia un'occhiata a quei tre testi indicati oppure ad altri tre testi analoghi. Se scrivete alla segreteria, visto che ce l'hanno chiesto in diversi nell'ultima edizione del test, la segreteria vi manda come risposta una mail dove vi vengono indicati anche degli altri testi che possono supplire a quei tre che sono indicati nel regolamento di ammissione, così avete una gamma di scelta un po' più ampia. Ci sono altre domande? Un'ultima domanda, ci chiedono sia Ciro che Stefania se è possibile partecipare a concorsi pubblici finito il corso. Allora sarebbe interessante sapere a quali concorsi pubblici pensano questi ragazzi. Cerco di leggere tra le righe. Credo che stiano chiedendo se con questo titolo di laurea magistrale si può accedere a delle classi di concorso per gli ministeriali per l'insegnamento in Italia. La risposta è sì, queste classi di concorso, anzi la corrispondenza tra le classi ministeriali di appartenenza dei corsi di laurea e le classi ministeriali di concorso, le classi concorsuali, sono nel sito del ministero. Quindi vi invito nel caso in cui siate interessati all'insegnamento di queste materie, di solito nelle accademie, oppure nei licei che sono specializzati sulla musica, sull'audiovisivo, eccetera, eccetera, di consultare il sito del ministero, naturalmente. Se questa era la domanda. Si confermano insegnamento dai commenti. Un'altra domanda da Facebook, se c'è ancora tempo, Margherita chiede Gli studenti vengono seguiti in modo uguale per tutti o in base alla loro capacità e esperienza già acquistata in precedenza? Allora, i laboratori del primo anno, anche qua cerco di leggere tra le righe, sono laboratori in cui si parte da zero. Nella realtà dei fatti noi sappiamo che alcuni studenti, di quelli che arruoliamo, diciamo alcuni studenti hanno già sviluppato delle skill creative oppure tecniche prima per fatti loro, nel loro corso di laurea triennale, altri no. Quindi i laboratori di fatto partono da zero, per cui i docenti seguono il percorso dall'ABC fino alla specializzazione, per cui nessuno viene lasciato indietro, chiaramente. Quello che vi chiediamo, che chiediamo ai nostri studenti, è di lavorare tanto. Ci sono tante esercitazioni proprio perché chi è digiuno di tecniche, quando entra nel corso di laurea, abbia la possibilità di mettersi in pari con chi invece le ha già in qualche modo incontrate, masticate prima. Va bene, professore la ringraziamo, direi che siamo arrivati al termine, abbiamo esaurito il tempo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima presentazione alle ore 12, quindi tra pochissimo in realtà, di traduzione specialistica e interpretariato di conferenza. Per ora vi ringraziamo, ringrazio a tutti quanti di essere qui con noi oggi e a tra pochissimo. Vi ringrazio anch'io, ringrazio tutti i tecnici, come dicevo prima, che ha reso possibile insieme ai ragazzi che hanno parlato fino adesso, che hanno reso possibile questo evento e ci vediamo ai test o nel prossimo anno accademico in aula, speriamo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.